In questo momento ci faccio pensare per il Corigliano per il fallo proprio di Toscano ricordiamo intanto il punteggio quando siamo giunti qui alla città di Corigliano siamo giunti nel corso del 34esimo minuto, 37esimo minuto al primo tempo risultato è ancora fermo su e adesso proprio adesso arriva il pareggio di Cosimo Sarri mentre stavamo ricordando che la Garibaldina conduceva per 1-0 per effetto del gol realizzato dal capitano Luca Ferri arrivato è il pareggio di Cosimo Sarri